Asiago. Inizieranno entro l'estate i lavori del nuovo parcheggio sotterraneo che sorgerà alle porte del centro. Con due piani interrati sarà in grado di ospitare ben 176 auto nella zona tra via Trento, Trieste e via Verdi. L'area sarà affidata in convenzione ad un privato per 30 anni e porterà nelle casse comunali 80.000 euro l'anno. Si tratta di un'opera unica nel suo genere, spiega il sindaco Roberto Rigoni Stern. Stiamo parlando di un intervento di circa 2.900.000 euro. Un parcheggio multipiano adiacente al centro che avrà tre importanti funzioni. Aumentare la pedonalizzazione del centro e decongestionarlo quindi dal traffico e rivitalizzare l'interarea verde di via Trento, Trieste. Sopra i due piani interrati infatti è prevista la realizzazione di un parco giochi collegato direttamente ai vicini giardini pubblici.